Ecco, quest'oggi vorrei introdurvi al programma media brevemente, dandogli una panoramica dei vari settori di intervento. Il programma media agisce a 360 gradi su tutta l'industria del cinema e dell'audiovisivo, quindi su tutti i settori, dallo sviluppo appunto di cui parleremo nello specifico oggi, alla formazione dei professionisti, di produzione di opere, diffusione, distribuzione, festival ovviamente, peraltro il Bergamo Film Meeting è uno dei pochi festival in Italia ad essere sostenuto dal programma media già da diversi anni e sicuramente in questi vent'anni il programma media ha aiutato a sviluppare, a realizzare, a distribuire migliaia di film, quindi se avete dei progetti in qualsiasi settore, non solo ovviamente a livello di sviluppo e produzione, tenete conto che potrebbe essere un partner eleggibile. Il film è sulle difficoltà di parlare e parlare sulle cose tra le persone, perché in realtà non cambia nulla cosa se sei da Polo, Holanda o in ogni altro paese, se sei un foreigner o qualcuno. ragazze dell'est che vengono a lavorare in Italia nelle case sbattanti eccetera, un problema che riguarda anche noi, le chiedevo ci mette di fronte alla loro visione di come siamo noi e anche se sei d'accordo. Quando Eva è veniva nella casa che è così clean e così perfetta, è anche che lei è così... è così... è così... è così... è anche per me, mi senti proprio che non dovessi fare nulla cosa, dovessi stare e non dire una cosa. La risposta a vostra domanda, perché è una grande differenza in la forma che percevamo il cuore di cuore di cuore di uccidere o di uccidere le famiglie, che sarebbe un'unica different here and the answer to this is also defined the mystery of solving this is the mystery that could have solved afghanistan in a different way the competence, the cultural competence had been inherent in the people going there in the first place this might have turned out differently but the big question is, is it possible to develop a country through guns, airplanes and prisons? is it possible to change the way of a clan the way of punishing women that has been not faithful not to their husband but maybe driving a car is it possible to change a society like that? just overnight and the reality in Norway before in the United States, in Italy, in Great Britain has been covered up by so-called successful actions the picture being drawn is that this has been on many levels a successful operation for the last 10 years our film and our colon shows that this is not so the fight has been without any result other than making enemies in Afghanistan but the strong thing which makes this very exciting narrative to work with is that you have a protagonist documentary-wise which is telling the truth as we saw it he doesn't cover the truth 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 and I felt like in the end of the world he felt like casa di Mark che nel film è il personaggio che fa i suoi film. In un certo senso secondo me il fatto di vivere con queste persone chiaramente ti dà una possibilità di essere molto più intimi con loro. Con l'inglese, i Welsi non si parla molto bene con l'inglese e solo l'accento irritate loro, quindi perché l'italiano e l'australiano hanno un approccio molto legato, credo che hanno avuto a noi in un modo diverso da l'inglese e ci hanno dato molto più accesso. Abbiamo presente l'attore protagonista, Rodrigo Sainz e Eredia. Se aiuterà nella traduzione Valentina. A finalità, mi piace molto lo che dice Manuel, il director, che è una tragedia, però è una tragedia intentando contarla di una maniera più sencilla. Dice che è una pelicula che prima è il paesaggio, poi i personaggi e poi la storia. Un po' al contrario di quello che suele succedere. Quindi è una pelicula che tratta molto di besi e sentimenti a través del paesaggio e dell'atmosfera. Più che essere i personaggi che si muovono nel paesaggio e sono il paesaggio che muove i personaggi. Sì. 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 Sì.